...a tirare i piemontesi e i milanesi a visitare la Liguria, così come Liguria, a scoprire l'importanza. Abbiamo anche la fortuna di essere i protagonisti del prossimo film Disney, che lancieremo a Genova in futuro. Noi poi ci incontreremo per parlare dei piani della regione, ogni settimana gli docenteremo l'inventivo a questo settore che anche possibilmente è collegato a una certificazione normativa di base, che renda più fluido, inoltre di età, visto che ha cambiato qui, straordinario. Non mi soffermo sulle cose positive, mi soffermo sulle Covid, la potremo in qualche modo, non dico archiviare, ci inseguirà per lungo tempo. ...e operazioni immobiliari che stiamo andando a fare su quell'area, come un nuovo waterfront di piano. ...e problematiche del territorio, oggi è ancora giornata fortunata, come forse qualcuno di voi l'ha visto da agenzie, Genova e Savone, e anche, ovviamente, Genova volta a porto, esticamente commerciale. 17.000 vaccinazioni di ieri, quasi 1.2% della popolazione in un solo giorno.